Come posso preparare il mio imbarco? Cliccate sull'email di registrazione che riceverete prima della partenza ed effettuate il check-in online. Oppure andate su corsicaferries.com. Dopo aver inserito gli estremi dei documenti di identità per ogni passeggero, verificate con precisione e indicate le dimensioni del vostro veicolo, includendo l'ingombro di eventuali accessori. Poi, non dimenticate di scegliere la vostra cabina e tutte le prestazioni e i servizi a bordo, per ricevere la carta d'imbarco, che potete stampare o salvare sul vostro smartphone. Siete quasi pronti per imbarcare. Recatevi al porto d'imbarco un'ora prima della partenza, se partite con l'auto, e solo 30 minuti prima, se partite a piedi. Con Corsica Ferries tutto è facile e veloce. Anche l'imbarco!